Sono in vendita da oggi biglietti per il nuovo volo Alghero-Barcellona che sarà operato per la prima volta nella storia della compagnia il 25 marzo 2018 e sarà attivo per tutta la stagione estiva fino al 21 ottobre con più di 20.000 posti disponibili. Il volo sarà operativo con due frequenze settimanali. Quello con la Spagna è un collegamento che risponde alle esigenze di molti passeggeri sardi ma è anche coerente con i programmi condivisi con i rappresentanti del territorio con cui interagiamo sistematicamente. Federalberghi per prima, ha dichiarato Mario Peralda, direttore generale della società di gestione dell'aeroporto di Alghero. L'avvio di questo collegamento, il ritorno della destinazione Barcellona nel nostro network e l'arrivo di un nuovo vettore di questa rilevanza sono senz'altro ottimi segnali per il nostro aeroporto. Anche il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha colto con favore l'arrivo della compagnia spagnola e il collegamento con la Catalogna, che torna a rafforzare così quel legame di cultura, lingua e tradizioni. Riprende quel rapporto economico, commenta il primo cittadino, che negli ultimi anni ha dato interessanti prospettive di crescita e sviluppato importanti flussi turistici. Il nuovo collegamento, operato dalla compagnia Wailing tra Alghero e Barcellona, si aggiunge ai voli annuali EasyJet su Londra, delineando una nuova programmazione con più rotte e vettori dello scalo del Nord Sardegna. Ecco perché, rilancia ancora Bruno, mi aspetto dal nuovo presidente del network F2I, novità importanti. Sviluppi che potranno esserci all'esito del bando regionale dell'assessorato al turismo con i collegamenti nazionali Volotea su Napoli e Venezia, con la ripartenza della rotta sulla capitale spagnola Madrid e con i nuovi bandi che si espletteranno nella prossima primavera. In effetti, rispetto al 2015, l'anno che ha preceduto la grande crisi dello scalo algerese con l'abbandono di Ryanair e le nefaste note conseguenze, ci sono da recuperare 200.000 passeggeri. Un obiettivo possibile, secondo Bruno, perché è confinato ai mesi spalla, quelli su cui si concentrano gli sforzi e gli incentivi alla destagionalizzazione messi in campo dalla regione.